Ciao amigas e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi se volete iniziamo una nuova serie, vi porterò ogni tanto, però prima cosa dobbiamo dire che siamo in compagnia di chi sarà, è lui o non è lui? Non è lui Sopriamente con Fabino Ciao Allora, è rivela, infatti cosa ti vi ho detto prima, se volete sarà una serie, se no no Insomma, se vedo che vi piace la continueremo, quindi ogni tanto porteremo dei giochini, diciamo, su questo gioco, vi parti più Chi non lo conoscerà, chi lo conoscerà Ma non lo so Non si sa Comunque ci sono appunto queste tre cose Ok Allora, sono dei giochi di gruppo, diversi e di con diverse modalità di gioco sulla tv Giochi in casa, trasformano la sostanza del terno di questi giochi e sfide per due giocatori testa a testa sul gamepad A parte che ci siamo io e te Si, già E poi ho prescindere No, fatete Che quello non mi ricordo chi è Ok, vai, vai tu che lo sai Allora, nei giochi di gruppo ci sono corsie veloci, isola gamepad, carnevale con il link, sbilancia le pieglie e alchimia di squadra Invece, in giochi in casa, indovina la smartphone, insomma, i giochi in casa sono giochi carini che si fanno soltanto con il gamepad e più che altro vedete Con tre o quattro giochi Esatto, soltanto che magari questo e questo e questo e questo, vabbè e questo, vabbè Che sono altri giocatori Allora, indovina la smofia, disegni di quiz, intreccia falangi, cacciarmi, il menù dei desideri Vado sincronizzato, portatori d'acqua e conosci i tre amici Gioco tutti i mini giochi Si, molto molto carini, sono gioco bellissimo Poi Poi sfide da tavolo, il calcetto da tavolo che l'ho provato sinceramente non mi piace praticamente perché fai tipo E basta Poi il baseball da tavolo che è brutto secondo me Ginkana meccanica Questo invece io non ho mai provato Tutti i cosetti tipo con le levette che si muovono, insomma, lo proveremo, lo proveremo Forzamente E' un po' più d'astuzia quello forse Si Ginkana meccanica Eh, si, insomma, devi muovere le levette in modo che con le palline Forza mi? Ma dai, ma che cos'è? Si Le palline del tuo colore, insomma, devi muovere queste cose in modo che... non so come spiegartelo Mi ricordo il tuo colore Vabbè, ok Comunque, memoria bestiale, puzzle, la spinta e mini giochi da tavolo, ossia che tutti i mini giochi che ci sono Quindi andiamo a vedere Beh, un intanto metto un attimo così Tanto non mi interessa Bersaglio mobile, gratta e trova Gran premio sui binari Libello e espluggenti Sumo touchscreen Ovvio Il rudo del coraggio Box giornattolo E eh, curling per due A me curling sinceramente non mi è piaciuto Non so perché Noi sono anche quelli in collaborazione però Ok, quindi che vogliamo fare? Io vi faccio vedere Già vi faccio vedere il torneo Poi inoltre c'è anche... come si chiama? Un torneo da tavolo, diciamo Un hamburger in due Figo, non l'abbiamo mai provato questo quello eh? Non l'abbiamo provato nessuno di tutto No, di questi no Montaggio auto... 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 mi... auto... mi... forse dei robot? Eh, non lo so Pesce in capsula... ah, dobbiamo chiappare... dobbiamo chiappare Dei pesci, bello Affidamento sui reni Vabbè, pozzo del tesoro Ah, mi piace Ah, infatti, vogliamo trovare i pozzo del tesoro? I due boscaioli Ah, dobbiamo ordinare... Figata Ok, visto che ti piace tardi iniziamo con il pozzo dei desideri Quindi, in teoria, se noi dobbiamo giocare sul gamepad, ma comunque la televisione si vede automaticamente Quindi, senza dobbiamo registrare pure lo schermo del gamepad Ah, perfetto Lo vedete, in qualche modo, sicuro Ok, vai vai Quindi, prendiamo le mani del gamepad Uhuh Che figata Allora Eh, io sto così Ruota L, vabbè, tu R ovviamente Inizia con il tuo compagno per sollevare il tesoro Ok Prima che scada il tempo senza farlo cadere Allora Siamo calmi Facciamo tipo così Eh, facciamo così Ok Ma mai Vai Oh, senza musighetta Cazzo Ah, senza musica Ma stiamo facendo in contemporanea, sì? Sì, più veloce Arrivo il tesoro, arrivo il tesoro Eccolo, cavolo, staccare tutto Occhio che si sta in là Tutututututututu No, dai No, ma dai L'abbiamo perso Ma ci manca un segno, ma no Ci dobbiamo riprovare Scusa Dobbiamo riprovare? Oh, la musichetta adesso c'è Vabbè, la musichetta Riproviamo, cavoletti di Bruxelles Dobbiamo fare super veloce Va bene così Ok, vai Ci proviamo Uno, due, via E' figo perché si incanta proprio, ti hai capito? Si incrina Si incrina Dai che ce la facciamo super Come? Come l'abbiamo fatto? Non capivo, cavolo, non capivo Se incrina verso di te, devi velocizzatù, cavolo Allora, questo ci siamo riusciti, divertentissimo Ok Vediamo l'altro Il buscaiolo? Non lo so, vai I due buscaioli Speriamo che la canzone si tenda perché è un pochino bassi in effetti Allora, in clean up ovviamente è l Ma non è bassi, ora la musica non c'è? Secondo me non c'è Eh, ma bisogna solo la gamepad, ecco perché Ah, ok Avanti e indietro insidonevo con i tuoi compagni per stricare Quindi io verso di te, tu verso di te Cioè, tu verso di te Si, per forza E viceversa Io devo tirare, tu devi spingere E iniziamo verso di te Ok Prima verso di me Uno, due, via No, via, Luano Aspetta, fermati Me, me, vai Una, due 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 Come? Ah mamma Lo posso dire? Siamo delle secche, veramente Scusa, è vero? Allora Uno, due Tu invece anticipi Perché mi anticipi? Scusami Allora vediamo il verso della sega come sta Perché è qualche sbrigata Vediamo il verso della sega come sta Ok Allora verso di te Uno, due 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 Oh, issa Oh, issa Oh, issa Oh, issa Oh, issa Oh, issa E vai Sempre il secondo tentativo Perché prima dobbiamo capirlo No? E dopo vediamo un po' Sempre quello con 12 secondi e questo con 13 Sì Vogliamo provarmi un altro? Vai Vediamo un attimo com'è Vediamo che altro ci sta Allora Allora Quindi vogliamo provare tipo pesci in capsula Eh, vai Dobbiamo raccogliere più pesci possibili si crede Insomma Ma chissà Ah, una figata Ah, quindi dobbiamo vedere Muovete la semisfera con quello che vuole Ah, quindi dobbiamo acchiappare proprio dentro Dobbiamo catturare Sì E cercate di collaborare per catturare i pesci prima che scavano Vai e ci riproviamo perché secondo me è molto difficile Quanto sta Vai questo Oddio No, devi fare questo Dove vai? Stavo a dimenticare Se no era troppo facile Vai vai Tu ve la troppo Troppo corti Non sei secondi Ci riproviamo secondo me non ci riusciremo mai Secondo me con tre ce la facciamo Vai che ce la facciamo con tre Eh, io non credo Non credo Già tanto che Vai Oddio che cosa sta succedendo Nooo Dai 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 Nooo È scappato però Che sfiga Sei quello stessico Quello è scappato Vogliamo ritrovare? Vai Ce la facciamo Ce la facciamo ho detto Vai 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 Quello c'è entrato da te Tre è difficile secondo me Però aspetta Aspettiamoli Catturiamoli un attimo Mandiamoli prima da una parte Spingili verso Vai Noo Te li spingo verso di te eh Vai 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 Dove è dietro Io li spingo verso di te Eh Vai 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 Neanche uno stavolta Noi Uno È difficile Perché siamo normalmente veloci Sì infatti Vai Ok riusciamo vai Vediamo un altro Possiamo provare Vogliamo provare Tipo un hamburger in coppia Eh Vediamo che succede Vediamo cosa dobbiamo fare Ah Tu hai quegli ingredienti Io ho altri Allora Tocca gli ingredienti Per comprare almeno cinque succulenti hamburger Prima che scagli al tempo Allora Tu hai Difficile Il panino sopra Un hamburger E non so che cosa perché c'è un dito No Poi io ho il panino sotto Formaggio e lattuga Quindi Quindi facciamo così Li metto Ehm Vogliamo fare che tipo li metto prima tre io O Non è che ci dicono il menu Ah beh vediamo vediamo perché l'ho mai fatto Oh cavolo Ok questo Lattuga Vai No Questo C'è scritto qua vedi E questo Ah ok Poi devo iniziare sempre io Quindi vai hamburger Hamburger Formaggio E questo È difficile Che Che sta succedendo Non lo so Questo vai Poi questo Questo e questo vai Ah Ok Questo Questo E vai Oddio dai 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 non ci manca l'ultimo Vai vai Perfetto Ce l'abbiamo fatta Però non so gli altri E la miseria Quali sono Sono tantissimi Vai ma abbiamo capito un po' Più o meno Perfetto Infatti Ci abbiamo più veloce Ah ma gli ingredienti cambiano Eh beh direi Ma no è cattivissima la questione Allora Questo vai Questo E questo Ok Ehm Poi Formaggio Ok Lattuga Ehm No ce l'ho io scusa Ah Porca miseria Mi ricordavo c'avevo il formaggio io Vai No No Ma già Eh infatti ho altri ingredienti spugoli Io io Ah ok Perfetto Oddio che sedere Vai 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 Scusa Vai 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 Ok Abbiamo sblocato 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 Questo 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 vai 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 che adesso superiamo Il nostro reddoso Oddio Che salve Dai Noooo Questo era quello più facile Infatti avevi cliccare Però è un'andata Ma ormai in tempo era troppo Grado B però eh Ormai era troppo Ma andando avanti ok ma l'ultimo minigioco questo ha visto che ci mancano due facciamo tutti due affiatamento sui reni quindi dobbiamo roma sicuramente collaborare a condividere il gommone eccezione ai collezionari e collezionare i palloncini da spiaggia inclinare verso il basso e verso l'alto quindi così e quindi vai insieme insieme no 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 vai ok vai adesso io ok vai tu vai tu guarda quella vai tu 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 dobbiamo prendi i palloncini praticamente si vai 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 ok vai vai tutto il genere vai 1 2 3 1 2 3 ma andate a stare al papila aspetta aspetta vai vai tu vai tu vai tu eh ma ah no che furti questo è vero perché sei impegnato io faccio male vabbè dai facciamo l'ultimo si montaggio autonico 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 afferra le parti dello stesso colore inclinando un verso di te e poi inclinando un verso l'alto per costruire eh come dobbiamo fare secondo me sinceramente non ho capito secondo me è difficile vai tieni ah no che devo fare non lo so che ho fatto ah devo prendere ma che ho fatto così dietro e poi andiamo avanti ah ok eh ma l'ho fatto uno all'ultimo secondo ok adesso abbiamo capito il primo lo prendiamo ok quindi dietro per prenderlo ok no no perché non l'ho capito all'inizio no ok ok ah io mi lo prendo dai no vai no non me l'ha preso ci abbiamo fatto abbiamo fatto anche due in più in realtà non lo so ne manca cosa ci riproviamo vai l'ultima volta e vediamo Il primo sicuro. Chissà se commentano gli piace, se sono giusti minigioco, minigiochi. Vai. Alla grande. Ah! Ce ne mancavano tre. E poi siamo stati velocissimi. Scusa, come cavolo facili? Grado A comunque. E quindi sono contento uguale. Per carità. Mannaggia. Che fregatura. Vabbè dai. Comunque siamo stati bravi, abbiamo fatto tutti questi minigiochi. Secondo me sono tutti molto molto carini. Ma quelli che mi sono piaciuti di più, devo essere sincera, quindi mi sono piaciuti gli hamburger, quello di creare gli hamburger, e quello del tesoro, sinceramente. Era carina come idea, comunque che tipo si sbilanciava. Comunque veramente questo gioco, secondo me è fatto veramente bene. Perfetto. Bello, sì. E comunque ragazzi, fatemi sapere con un mi piace e con un commento, se volete insomma che continuiamo questa serie, perché noi siamo in compagnia di Papino. Sì. quindi perché insomma mi farebbe molto piacere. Se vedo che ci sono molti mi piace, lo contenderò anche perché ultimamente vi state veramente superando, insomma, vedo che soprattutto ad esempio The Sims che già l'ho detto, cioè vi siete superati un casino e più che altro e non so che dirvi, cioè ne approfitto per questo video che non so che dirvi perché veramente... Per salutare tutti? Per salutare tutti? Eh... Gli iscritti? Ah, più che altro perché... Cioè ieri, raga, cioè all'altro ieri avevamo tipo 200... ieri sera 230 forse iscritti, cioè stamattina 257. Sei arrivato a 2.64. Adesso sono stati da 2.63 l'avevamo visto. Sì. Quindi c'era, insomma... Un bel passo, dai, un bel passo. Sì, infatti veramente una cosa che non mi sa... cioè non è che non mi sarei mai aspettata, anzi, che sì, non mi sarei mai aspettata di arrivare a questo livello così velocemente, diciamo. Grazie mille a tutti che mi sostenete, veramente, grazie a tutti, perché per me è molto bello. Comunque sarei felice se vi piace questa serie e mi piacerebbe continuarla. Comunque io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate il mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti! Ciao!